Valla a romper Ora voi ogni volta mi avete preso per pazzo quando facevo i video No, no, non andate via Ciao ragazzi sono io, sono bella faccia Non sono Erobrain Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Oggi come potrete vedere In che mondo sono? Oh, se ne metto in ferro In che mondo sono? Sono nel mondo di Kendal ragazzi Sì, proprio così sono nel mondo di Kendal Perché se vi ricordavate È passato quasi un mese dall'ultima volta che lui mi ha fatto uno scherzo È passato quasi un mese Quindi io guardate mi sono messo la skin di Erobrain Perché voglio fargli paura Sì, mi voglio vendicare Voglio fargli uno scherzo con i fiocchi ragazzi Ho saputo che Kendal Pensa che il suo mondo si è infestato da Erobrain Mi sono messo questa skin Mamma mia, secondo me Diventerà, secondo me scapperà Non so cosa potrebbe succedere Quindi mi raccomando lasciate un sacco di like Allora, ho saputo che oggi doveva registrare la vanilla Quindi io lo aspetterò qui Non so quanto dovrò aspettarlo Magari ci vorranno ore ragazzi Non lo so Però ne varrà la pena Quindi prepariamoci Iniziamo Non vedo l'ora Ok, come potete vedere Guardate Sono solo io nel server Ancora non c'è Speriamo che non entri Mio Dio Ho una paura Iniziamo a fare le croci Allora, quindi Lui ha un sacco paura di Erobrain Infatti ha fatto anche un cimitero Guardate Ha fatto anche un cimitero Allora, facciamo qualche croce qua Così Così Ok, perfetto Ho preso anche della netherrack È molto spaventosa Guardate Oh mio Dio Guardate Mettiamoci Oh, mettiamoci anche del fuoco Oh mio Dio Fa veramente paura Chissà la sua faccia ragazzi Vorrei proprio vederla Ne facciamo un'altra qua Oh mio Dio Io ho una paura Che posso entrare da un momento all'altro Quindi bisogna fare velocissimo Oh mio Dio Ho paura io Che so che è uno scherzo Mamma mia Oh mio Dio Fa un sacco paura Aspetta Allunghiamola un pochettino Mamma mia Io vorrei vedere la sua faccia ragazzi Guardate Ho ricoperto tutto di croci Guardate Le croci di Erobrain Di netherrack Oh mio Dio Che belle Allora Ho preso anche una pozione di invisibilità Perché quando entrerà Noi lo guarderemo Lo spieremo da lontano Mamma mia Gli faremo prendere un sacco di paura Veramente Un'altra qua Ok Oh mio Dio Oh mio Dio Ragazzi Ragazzi è entrato Guardate È entrato nella partita Oh mio Dio Oh 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 Subito Pozione di invisibilità Pozione Mamma mia Oh mio Dio È entrato Finalmente Non si posso credere Non si posso credere È entrato Sono entrato su TS Vediamo È online È online Oh mio Dio È un mio Dio Ma cosa fa Ma sbadiglia Ma sta sbadigliando Ragazzi Ehi ma ti sei appena svegliato Kendall Ma cosa è successo Sentiamo 3 2 1 Salta Ok Sta iniziando a fare il video Ragazzi Non so dove sia Eccolo L'ho visto L'ho visto Allora Allora la pozione di invisibilità C'è Ok perfetto Cosa fai Kendall Ti stai Sbadiglia Ma cosa sta facendo Sta smontando la scrivania Ragazzi guardate Lì sotto Oh mio Dio È lì sotto Ma cosa sta facendo Allora mettiamoci qua su Sicuramente Non dovrebbe vederci Guardate Ecco sta arrivando Ok Eccolo 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 Pronto 3 Pronto 2 Sta per iniziare la intro Ciao a tutti ragazzi Sono Kendall E benvenuti in questo nuovissimo video Ok ragazzi Sentiamo che cosa hai in mente di fare Oh guardate lì È lì Oh mio Dio Perché non porto la Candy Craft Da un bel po' A dir la verità Diciamo che è passato più o meno Un mesetto e mezzo Un mesetto e mezzo Wow Eh Kendall Kendall Adesso Te ne pentirai Di essere entrato Un'altra volta Nella Candy Craft Adesso mi è tornata la voglia Anche perché ci troviamo Nel periodo natalizio E guardate Vi ricordate Che l'anno scorso Ho costruito Una Nel periodo natalizio Questo sarà Il peggior periodo natalizio Per te Perché vedrai Aero Brian Mio caro Kendall Comunque Ho letto i vostri Commenti Sì Sì E in molti Mi avete chiesto Di fare Una stanza Del 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 E in molti Mi avete chiesto Di fare la stanza Degli armor stand Dove metto tutte le Ok ragazzi Perfetto Vuole fare una stanza Degli armor stand Perfetto Allora magari mettiamoci qua Vediamo Mettiamoci che così Così Se ci vede ragazzi Gli facciamo un sacco paura Oh mio dio Sentiamo cosa dice Parcure sulla montagna Ed era veramente Super fastidioso Quindi questa volta Abbiamo messo il ponte Abbiamo messo anche le staccionate E posso andare a casa di Billy Senza alcun problema C'è però soltanto No ma dove va A casa di Billy Allora vediamo Lui ha detto che voleva fare una cosa lì Una stanza Vediamo Allora Mettiamoci la pozione di invisibilità Ragazzi Perfetto Allora gli metto un pochettino di torce Di redstone Gli metto delle torce di redstone Dove è andato? Ok perfetto È andato là giù Io mi metto qua Sentiamo cosa dice Uno di questi giorni Vi prometto che farò la scuola Magari durante le vacanze di Natale Oh mio dio Vuole fare la scuola Poveri suoi iscritti Vuole fare la scuola Allora mettiamo un po' di torce sparpagliate qua Perfetto Così Adesso andiamo se ne via Andiamo se ne via No cosa? No ma io avevo Avevo messo le torce di redstone Ma io non ce l'ho neanche le torce di redstone Se ne è accorto Ehm Ehm Eh? No 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 Oh cavolo Che cacchio è successo? Oh ma co Perché ha spuntato un silvestro? Ma io quello non l'ho messo Cosa? Ma io non l'ho messo quello lì No ragazzi aspettate Schifoso topo brutto Ma io non l'ho messo quello lì Ragazzi aspetta Aspettate un attimo Ma io non capisco Ho rotto Ah No 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 Altri silverfish Ma che cacchio sta succedendo Ah Oh mio dio ma Io ragazzi non gli ho messi quei silverfish Come mai? Ma perché? Se Quel tipo di roccia Ma che c'è là? E questo? E quello? Ma Oh arriva il silverfish No Oh mamma mia Ma che cacchio Dai ma il silverfish Non è un topo Poverino Sta facendo anche notte Oh mio dio Sta No 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 Oddio che schifoso Ma cosa sta facendo? Ragazzi voi non avete idea Del perché io Ho paura di questi topi Un giorno ve lo racconterò Vi prometto Ma perché ha paura dei silverfish? Cioè sono minuscoli Non capisco come mai Ma poi il bello è che non li ho messi io lì ragazzi Ma cosa fa? Ma dove va? Ok adesso io direi di toglierli Allora Mettiamosi la pozione di invisibilità Allora Ritogliamo ragazzi Ma i silverfish come mai sono lì? Togliamo Togliamo tutte le torce Allora Una Due Tre Ok E togliamo anche questa qua Perfetto Andiamo via Andiamo via Schifosi dove siete andati? Ecco qua che state infestando La mia candy craft Adesso non si sono più Ma che cacchio sta succedendo? Ma perché escono? Ma Ma perché Questi topi riescono a rompere Il pavimento? Non lo so ma non li ho messi io Allora ragazzi abbiamo un sacco di scherzi Allora Potremmo mettere il giradischi Oh mio dio Mettiamo il giradischi Con la musica di Aerobrine Sentiamo cosa fa No già Ok allora Rimettiamo le varie torce Le mettiamo Le mettiamo una qua Le mettiamo qua Una qua Dove glielo mettiamo ragazzi? Glielo mettiamo qua sopra Qui Iniziamo Vai Stiamo Cosa cavolo? No Wow 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 Ma che cavolo sta succedendo? C'è un jukebox ragazzi C'è un jukebox C'è un jukebox Ma dov'è? Dov'è? Mi guardo lontano Mi guardo lontano Dov'è il jukebox? Dov'è il jukebox? Ma sta là Ma è là Lo vedo No non lo puoi vedere Ha visto visto Ragazzi Vi ricordate che No aspetta Andiamo a togliere sta musica Perché qua Oh mio Dio Sta arrivando qua Metti i brividi Ma che cacchio Via 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 Io non ho mai craftato un jukebox in vita mia Come cavolo ci è spuntato questo No no Ma che cosa sta succedendo? Perché si rompono i blocchi con un colpo solo No 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 Il silverfish lo attacca Ma guardate Ragazzi Ma che cosa? No no Ma che cosa? Ma cosa sta succedendo? Mi piango Mi piango e mi ne vado Mi piango e mi ne vado Ma cosa sta succedendo? Oddio sta musica è infernale Ma perché? Oh mio Dio Ma ragazzi ma Che cosa sta succedendo? Ma io vi giuro che lì non ho fatto niente Io non ho fatto niente Ma come mai stanno uscendo i silverfish? Completamente infestata da aerobrine C'erano delle croci a caso Creeper che non morivano mai E riuscivano ad uccidermi E tante altre cose Come per esempio il fulmine Che ha rotto il ponte Tutte queste cose strane E adesso questo Guardate Schifosi Ma come mai? Aerobrine Io non ho paura di te Hai capito? Perché io lo so che c'è il tuo zampino Non hai paura di aerobrine? Benissimo Non hai paura di aerobrine? Allora ragazzi Avete visto tutti quanti Che sono riusciti a rompere I vari blocchi Toccandoli con un colpo di spada Com'è possibile? Lo stiamo facendo infassire ragazzi Lo stiamo facendo infassire Guardate Non so più cosa fare Arrivano anche gli zombie No Allora adesso mettiamogli Mettiamogli una cosina qua ragazzi Gli mettiamo del fuoco Ok Mettiamo questo fuoco così E mettiamo dei pipistrelli magari Mettiamogli un pochettino di pipistrelli qua Vediamo Dov'è? Vedo un bel arco Perché tanto dovrei averlo sicuramente Oddio l'arco vuole prendere Poi voglio vedere se fanno ancora i gradassi Mettiamo un altro pochettino di pipistrelli Dove sta l'arco? Ce l'ho? È mezzo rotto però vabbè Mettiamo un sacco di pipistrelli qua dentro Scusate ragazzi Se non sono riuscito a costruire nulla ancora Ma vi giuro È quasi impossibile Non Oh sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Perché? No 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 Ora i pipistrelli pure Ma i pipistrelli non ci sono mai stati nella mia vanilla Dai torna Ma la c'è del fuoco Oh c'è del fuoco No 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 sta prendendo fuoco No perché sta prendendo fuoco Che poi mi si brucia tutto il legno Oh cavolo Ma papà che cacchio sta succedendo Oh Cosa c'è? Raga io ve lo dico eh Cosa c'è? Io ve lo dico Qua c'è lo zampino di aero Eh La nether La nether No Dai Valla a rompere No Valla a rompere Ora voi ogni volta mi avete preso per pazzo Valla a rompere 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 Perché sei scello No 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 Oh mio Dio ragazzi È il pipistrello Braini mi dite No non è vero Ero ben secondo me Non esiste Sì non esiste Questo che vi ho spiegato allora No 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 Eba Oh Ma che Oh bellissimo Mi vado a prendere L'elmetto in ferro L'elmetto in ferro Non ti servirà mai Adesso mi metto Su una montagna Dov'è andato? Dov'è? Dov'è andato? È pieno di pipistrelli Ma dov'è? È pieno No 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 Ho visto una figura Ho visto una figura Ho visto Ho visto Ho visto L'ho visto L'ho visto ragazzi L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Ma No Non ci credo Ma io me ne vado Ma stai scherzando Ma stai Ma mi prendi in giro? Sei un cretino Ma sai che sei un cretino? Mi ho fatto prendere un colpo Ma allora Aspetta Tu sai che io ho paura Ma proprio terrore Dei silverfish E te mi riempi la vanilla di silverfish? No aspetta No aspetta I silverfish Ti giuro Ti giuro che non li ho messi io Come non li ho messi tu? Ti giuro che non li ho messi No infatti ho visto Ma cosa sta succedendo Ma c'è roba in veramente? Ma Oh no raga Aspetta aspetta Io non sono bella faccia Sono Arobra Io ti tolgo l'accesso al mio mondo Sì 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 Io ti tolgo l'accesso al mio mondo Così non puoi entrare mai più Sì 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 Sei simpatico Ragazzi Ce l'abbiamo fatta A fargli lo scherzo L'abbiamo trollato Mi sono vendicato Sì 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 Era una vendetta per lo scherzo che tu ho fatto Ma dai Sì 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 era una vendetta Era una vendetta Perché tu un mese fa mi avevi fatto uno scherzo Dove io avevo preso un sacco di paura Quindi tutti mi hanno detto Bella faccia vendicati Vendicati E io l'ho voluto fare Io l'ho voluto fare Ma ragazzi ma Io spero che questo video scherzo vi sia piaciuto A meno Commentate Fatemi sapere cosa vi è piaciuto Quale scherzo vi è piaciuto più di tutti Io non lo so Forse potrebbe uscire anche Alla fine Mi state zitti Zombie Oh ma che casino Io spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao 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 Kendall Ciao Kendall Ciao Kendall